vado all'altro lato, respiro piccolo a destra a sinistra ok questo video è stato gentilmente sponsorizzato da Yeppoda Yeppoda è un brand di skincare coreano, coreano, coreano che io adoro e che ormai utilizzo da tantissimi tantissimi mesi oggi voglio mostrarvi dei prodotti perfetti perfetti per l'estate che sta arrivando dopo aver fatto una buona doppia detersione perché è importante la doppia detersione d'estate perché così puliamo in profondità la pelle tutta un po' sudata, no? con questi tre prodotti the calm, the calm, the calm, the calm palm detergente oleoso the bubble, double detergente in muslo che ormai sapete noi siamo migliori amici ma oggi voglio mostrarvi tre prodotti che proprio quest'estate amerete tantissimo e come al solito alla fine vi lascio il mio codice sconto e il sito giù in descrizione quindi andate a fare anche lo screen per ricordarvelo tonico, 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 the mist questo non è solo tonico ma è proprio uno spray rinfrescante idratante con acido ialuronico perfetto dopo la detersione prima del make up dopo il make up in generale da applicare durante tutta la giornata quindi si sa che col sole la pelle si danneggia si secca questo è un prodotto che può far comodo davvero in tantissime situazioni ve lo consiglio tantissimo novità in casa Iepoda perchè la SPF la crema solare è stata riformulata guardate che meraviglia il pack sia con SPF 30 sia con SPF 50 quindi alta e molto alta ricordatevi di mettere tutti tutti i giorni la protezione solare è fondamentale è perfetta anche come primer non solo la crema solare vi protegge ovviamente tra il via e gli UVB ma 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 ovviamente previene l'invecchiamento della pelle perchè il sole è la maggior causa di invecchiamento della pelle e ovviamente previene tutti i danni causati dal prendere sole senza protezione quindi è fondamentale mi raccomando terzo prodotto che vi voglio mostrare è un altro prodotto di cui non vi ho parlato spesso ma che adoro perchè è multiuso e se mi conoscete i prodotti multiuso sono i miei preferiti questo è il The Multi Palm di Iepoda la mia colorazione preferita è questa qui e questo è un prodotto multiuso che si usa su labbra, guance e occhi quindi che vi fa un look molto naturale con un solo prodotto e la velocissima io veramente ne sono dipendente infatti come vedete ne ho usato parecchio cominciamo dalle labbra ovviamente anche idratante guardate che bel colore palpebre un pochino vance si sfuma con nulla che effetto stupendo stupendo sulla pelle proprio luminosa in un secondo quindi capirete sicuramente perchè questo prodotto è uno dei miei preferiti io vi lascio il mio codice sconto Chiara Iepoda del 33% di sconto e vi lascio il link giù in descrizione come al solito vi ringrazio la fiducia ringrazio ancora Iepoda per aver sponsorizzato questo video e passiamo al video buongiorno buongiorno come stai? si avevamo preso appuntamento un po' di tempo fa per vedere come andava ok e vedo che stai un po' soffrendo il caldo in realtà sono onesta anche io ti posso chiedere se ti darebbe fastidio se mi togliessi il camice? ok ti ringrazio perchè è veramente caldo ok ti ringrazio davvero tanto allora allora cominciamo dimmi prendo la mia cartellina sembra molto carino e dimmi tutto ok ok quindi stai avendo dei problemi anche a magari concentrarti per il caldo ok va bene va bene allora controlleremo anche un pochino il collo se è dietro il collo poi andiamo a fare il certo controllo generale ok dal resto nulla solo solo questi fastidi ok 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 molto bene allora io visto che questi un po' cali di pressione un po' problemi anche con il caldo mi sembra di capire andrei subito a misurare la pressione e dopo a sentirti il cuore ok dare la precedenza a queste due cose ok il mio macchinario che adoro troppo bellino troppo bellino adesso vado mettimi il braccio così ok ok è troppo stretto no vado eh ok ok allora slacciamo effettivamente hai la pressione un pochino bassa un pochino bassa e hai difficoltà a fare qualcosa durante la giornata oltre che a concentrarti e magari appena ti alzi un pochino un calo di pressione hai fatica a tenerti in equilibrio ok non ancora va bene meglio 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 non so cose che capitano anche a me quindi posso capire adesso facciamo un attimo che adesso andiamo anche a sentirti un po' il cuore i polmoni d'accordo giusto come al solito di routine con l'allergia come va? meglio passato che si vede che era proprio prettamente primaverile insomma dedicata soprattutto ad aprile e mazzo meglio così alcune persone durano tutte le state quindi ok ti chiedo di fare dei bei bei respiri come al solito ok sarà un po' freddo ma in questo caso sarà piacevole ok 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 bene ad un po' di lato ancora vado all'altro lato respiro 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 ancora una volta l'ultima volta e adesso ripetiamo con la bocca aperta quindi respiri forti ok bene ok un altro benissimo vado un po' giù un altro ancora bello grande respiro ancora molto bene un altro un po' di lato un altro un altro il penultimo e l'ultimo molto bene adesso andiamo a sentire un pochino il cuore cerca di respirare normalmente lo muovo un pochino lo muovo un pochino ok vuoi sentirlo? allora aspetto si mettono questi nelle orecchie io adesso prendo questo e te lo metto sul cuore lo senti? bello è? si è ad orecchie non alleate ovviamente non si capisce così niente però è molto affascinante d'accordo prima di passare un pochino agli occhi intanto mi metti i guanti perché ti voglio dare una cosa prima di passare un pochino prima di passare un pochino prima di passare un pochino seguire un pochino ad orecchie ora Ti vado a prendere due pastigliette e decideremo insieme quale può darti più beneficio per la questione di pressione bassa, energia, concentrazione Ho questi due tipi di pastiglie, andiamola a vedere insieme In realtà una pastiglia e una capsula Qui, se non mi sbaglio, sotto ci sono delle pastigliette Queste, la faccio vedere Questa è una pastiglietta Di magnesio Come vedete, piccolina Si può anche dividere in due se hai difficoltà a ingerirla intera E in realtà è molto semplice Devi semplicemente metterla sotto la lingua E si sceglierà pian piano E ha un gusto di frutte di bosco Esatto, molto semplice E si trova in questa coprezione All'interno ce ne sono trentina Oppure l'altra proposta che ti volevo fare E' questa E' questa Contenuta in questa confezione un pochino diversa Un po' più grande Perché queste sono capsule E sono un pochino più grandine Questa è la differenza Devevo inserire Ne sono uscite un po' troppe Questa capsula E' di magnesio E fosforo E' un pochino più scomodo da prendere Perché questa la si deve proprio ingerire così Con dell'acqua Ne puoi prendere fino a due al giorno Il magnesio appunto aiuta con Come ti ho detto prima Con l'energia Ed è veramente tanto tanto usato Anche magnesio e potassio comunque E sono molto utilizzati appunto Per ridare l'energia Ridare i sali minerali Perché studiamo tanto Magnesio e fosforo Aiuta sia Con l'aspetto di sali minerali E il fosforo invece aiuta un pochino Con la concentrazione Quindi Se pensi Ovviamente è un po' più scomodo da prendere Un po' anche meno piacevole Però ti può aiutare anche dal lato della concentrazione Sono tutti integratori Quindi li devi prendere regolarmente Dimmi te Quanto questo Questo calo della concentrazione Ti sta dando disagi E quale preferisci prendere per ora Io ti consiglio entrambi Cioè uno o l'altro Faremo la scelta alla fine Ok? In base anche alla fine Della visita Li mettiamo da parte Adesso vorrei un arti Una visitina Agli occhi Agli orecchie Al naso Ok? Quindi Ti dico già Attenzione Perché Utilizzerò una luce Quindi Adesso ti chiedo Di Chiudere 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 Un occhio E aprirmi Invece l'altro Poi semplicemente Te lo copro Guarda verso l'alto Guarda verso il basso Guarda a sinistra Guarda a destra Ok? Guardiamo un attimo L'altro occhio Da vicino Faremo la stessa cosa Lato Basso Guarda di lato Ok? Non ti provoca mal di testa Giusto? Ok? D'accordo Adesso Ti chiedo Di Coprire un occhio E seguire un attimo Questa luce Ok? Bene Quindi Segui Questa luce Dimmi Se ti crea Difficoltà D'accordo Ancora un attimo Adesso Dimmi Quanto luce Esce dalla tua visione Ok E adesso Quando entra Benissimo Facciamo Facciamo anche l'altra parte Allora Segui prima la luce Segui 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 Continua a seguire La luce La luce Ok Molto bene Ti crea stanchezza No D'accordo Adesso dimmi Quando smetterai di vedere la luce Ok E adesso quando torna Molto bene Molto bene Segui ancora Su Dimmi quando sparisce Dimmi quando torna Ok Dimmi quando sparisce Molto bene Adesso faccio la stessa cosa Faccio la stessa cosa Non è mai rubata a guardare Le tue orecchie D'accordo Quindi Dividerò La luce Dal Otoscopio E vado Ok Allora Ecco Mi sembra tutto opposto E migliorato Amato la situazione Rispetto all'altra volta Direi Ok Allora Guardiamo Nell'altra parte Anche qui Direi Che la situazione È migliorata molto Tu cosa dici Non è più Fastidi Comunque Eh Si Si Era proprio Anche l'allergia D'accordo Sono proprio contenta Che Tu stia meglio Sia migliorato Ok Molto bene Adesso Andiamo a controllare Adesso il naso Alzami un pochino Nella testa Molto bene E andiamo A guardare Ok Allora Non ti preoccupare D'accordo Anche qui Lo vedo Molto Molto Ma Molto Meno Infiammato Eh Si Eh Si 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 Va molto Meglio Fammi vedere Un attimo Meglio Direi che D'accordo Si si L'allergia È decisamente Passata Adesso Lasciami un ottimo Prendere Appunti Su queste cose Che abbiamo visto Dicevamo Allora Non abbiamo preso la temperatura Adesso Prendiamo subito Cuore Polmoni Con Lo Detto Ombio Soro Ok Pressione Il postiglio Adesso Andiamo a controllare La pressione La temperatura Aiuto Anch'io Sto prendendo il magnesio Perché il caldo Mi lo fa brutti scherzi Vado Ad impostarla Ok Ci vogliono 5 4 3 2 1 Secondi 36 E mezzo Direi perfetta Assolutamente Nella norma Con L'alpha media Ultima cosa Che andiamo a controllare È il collo Ti chiedo adesso Di cercare Di rilassarlo Il più possibile E andiamo a sentire Collo E l'infonodi Quindi intanto Scusami Vado a sentire Un ottimo I linfonodi Anche da questa parte Dile il collo Ben salto Ok Un po' sotto il collo Ok E adesso vado Chiudi Muovere il collo Alziamo la testa Muovere il collo A destra A sinistra Indietro In avanti Ok Muovila un pochino Bene Nei movimenti Circolari Adesso Anche Dall'altra parte Ok Ho visto che hai fatto Un po' fatica Adesso ti chiedo Se io vado A premere Questo punto Si estende un pochino Dall'altra parte Ok Ok Questi si chiamano Trigger point E i due Sono Molto Tesi I due muscoli Sono molto tesi Io ti vedo la ricetta Per andare Da un Non so Cosa preferisci Per me E' uguale Per questo problema E' uguale Andare Da un chiropratico Un osteopata O proverai Magari Prima da Una fisioterapista Ok Allora io ti Ho attivato La ricetta Per un fisioterapista E' una fisioterapista Che conosco Molto brava E poi vediamo Se Se Lei ti dirà Magari che hai bisogno Anche di un altro professionista Vedrà Insomma Lei Chi consigliarti Lei è comunque Molto brava Secondo me Anche tu sei tutta La fisioterapista Dalla fisioterapista Qualche consiglio Possono esserti Veramente utili Ok Ti manderò Il suo contatto Non sarà la ricetta Ti manderò Il suo contatto Via mail Ok Allora Io direi Che Noi siamo a posto Così Le pastiglie Dimmi te Vuoi provare Su quel magnesio Che ti sembra Un pochino Più Vagile Assuro Ok Allora Allora Tieni Ok Questo è semplicemente Un punto Sottalingua Fammi vedere Ok Benissimo Esatto Senti che si sta sciogliendo Molto Molto bene Allora Io direi che per quest'estate Se Il collo migliora Se non hai altri sintomi Se il magnesio migliora La situazione E se il magnesio migliora Siamo a posto E magari ci rivedremo Verso settembre Cosa ne dici Per un controllino Per dirci come Andate l'estate Io direi che Se non ci saranno Altre problemi Durante l'estate Noi ci rivediamo A settembre Ok Ti auguro Delle buone vacanze Una buona estate Mi raccomando Prendi questi integratori Anche due volte al giorno Non ti preoccupare D'accordo Ok Sono molto mia Anche la tua famiglia Ciao